Oibbo, io affermo che dietro la maschera che va ricercata la grande verità del teatro essere o non essere no, non può essere così sia comunque sia e cioè la finzione io fingo di essere amleto e tu spettatore fingi di crederci io sono bravo a fingere e più tu sei disposto a crederci o a fingere di crederci d'altro canto fingere di crederci in fondo è teatro è come crederci sul serio insomma, vero? e forse anche nella vita o no? BOO AAAAAA